Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1, 3 km di coda per incidente tra Albivio con la variante di Valico e Calenzano, Sesto Fiolentino in direzione Roma. Rallentamenti per traffico intenso in direzione opposta. Per un incidente che ha visto coinvolti tre camion al km 421 è stato chiuso il tratto tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze, uscita obbligatoria a Fabro. In A12, 2 km di coda per lavori tra Sarzana e Carrara in direzione Rosignano. In Filippillico ed è un uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra la Strassigna e Scandici in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina Firenze, nell'ambito dei lavori alla linea 3 della tramvia, giovedì 1 giugno verrà aperto al transito il nuovo sottopasso Strozi Strozi. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!